Cari sorelle e cari fratelli, il nostro aiuto è in Dio, fonte di ogni vita, che in Gesù Cristo ci rivela il suo amore di Padre e nello Spirito Santo ci fortifica e ci libera. Amen. Dice il salmista, ascoltaci, aiutaci a uscire dalle difficoltà perché vanno al soccorso dell'uomo, con Dio noi faremo cose grandi. Ci raccogliamo in preghiera. Dio nostro che nella tua bontà crei la vita e nella tua fedeltà sostiene ogni cosa, noi ti celebriamo e cantiamo le tue lodi. Tu molte volte hai liberato il tuo popolo, tu abbatti le potenze che soggiogano e schiacciano e innalzi coloro che sembrano non contare nulla e non potere nulla. Tu ci liberi dalle paure che ci paralizzano e tu stesso vieni a sostenere il peso delle nostre preoccupazioni e dei nostri affanni. Signore, la forza di vita che proviene dalla tua parola ci permette di pensare in modo sereno e con chiarezza, ci permette di sentire in modo appassionato e caloroso, ci permette di affrontare con coraggio e decisione le avversità. La tua giustizia risana la nostra vita e la rende fruttuoso. A te sia la gloria in Gesù Cristo. Amen. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sape, santo, 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 santo. Monte, 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 c'è, santo, santo, santo. Il cuore mio ti adora, il cuore mio sa dirti così, Santo sei Signore. Ci raccogliamo in preghiera prima dell'ascolto della parola del Signore. Dio nostro ti benediciamo per la dolcezza e la forza del tuo amore, per le tue promesse che danno direzione alla vita, per la tua fedeltà verso coloro che in ogni tempo hai chiamato ad annunciare il tuo regno, per la tua pazienza verso il mondo che ami al punto di avergli donato il tuo figlio. Questa è la tua risposta al male. Nessuna opera di disgregazione, nessuna forza disumana potrà fermare il tuo progetto di salvezza. La tua parola è la verità che sussiste in eterno. E ora fa che possiamo ricevere questa tua parola perché ci rassereni e ci provochi, perché orienti e determini la nostra vita. Amen. Leggo il Salmo 138 Io ti celebrerò con tutto il mio cuore davanti agli dèi, salmeggerò a te. Adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Tutti i re della terra ti celebreranno, Signore, quando avranno udito le parole della tua bocca e canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Sì, eccelso il Signore, eppure ha riguardo per gli umili e da lontano conosce il superbo. Se cammino in mezzo alle difficoltà, tu mi dai la vita, tu stendi la mano contro l'ira dei miei nemici e la tua destra mi salva. Il Signore compirà in mio favore l'opera sua. La tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le opere delle tue mani. Amen. La lettura della predicazione è tratta dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 11, i versetti da 1 a 3, da 17 a 27 e da 41 a 45. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Le sorelle dunque mandarono dire a Gesù, Signore, ecco colui che tu ami è malato. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa quindici stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta gli disse, lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolte da fasce, e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei, che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù, credettero in Lui. Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della Sua parola. Amen. Cari fratelli e care sorelle, il tema che percorre tutto il Vangelo di Giovanni è la vita. La vita non intesa come vita fisica, respiro dopo respiro, non come un semplice nutrirsi e muoversi nel tempo e nello spazio. Si tratta di una vita che non si concentra solo nel battito del nostro cuore, ma nel senso di questo battere. La vita che viene ridata a Lazzaro è la vita che aveva prima di morire, ma nella resurrezione in Cristo avviene un cambiamento nel battito vitale. Possiamo soffermarci un attimo sul battere del nostro cuore. In questo silenzio attento possiamo rivolgerci dentro di noi per sentirlo. Pensiamo alla vita che conduciamo ogni giorno, ai passi che facciamo per andare al lavoro, per uscire a fare la spesa o per andare a trovare una persona. Pensiamo alle mani che stringiamo, alle chiacchiere con la vicina, alle parole spese per il lavoro, ai muscoli doloranti a fine giornata. Pensiamo ai sorrisi veri, a quelli di circostanza, alla tristezza di un momento di solitudine, al sollievo di ritrovarsi finalmente a casa. Pensiamo alle persone che amiamo, a cui rivolgiamo la nostra cura e dalle quali ne riceviamo altrettanta. Pensiamo anche a chi ci ferisce, a chi ci sfrutta, a chi non ha rispetto di noi. Tutto questo è vita. Il nostro cibo preferito, il lavoro che facciamo, la curiosità verso qualcosa di nuovo, viaggiare, dormire, sognare, il desiderio, il dolore, la gioia. Lasciatevi trasportare da ciò che compone la vostra vita e provate a pensarla mettendo al vostro fianco lo Spirito Santo, non un fantasmino con lenzuolo bianco che svolazza. Pensate al soffio di Dio che rinfresca la vostra pelle nella calura di questa terra assolata. Pensate alle parole di Gesù che arrivano in uno dei momenti difficili che vi trovate a vivere quotidianamente. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ogni giorno ci troviamo in situazioni che fanno morire letteralmente la nostra speranza. Non vediamo nulla di buono, vediamo il brutto, l'odore nauseante dell'inquinamento e della spazzatura che ci circonda e che non viene raccolta. Vediamo il conformismo, l'arroganza, l'ingiustizia e piano piano ci sentiamo sopraffare da tutto questo. Non vediamo cambiamenti, non abbiamo più voglia di combattere da sole, inutilmente, come faceva Don Quixote con i molini a vento. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Da quando abbiamo iniziato ad ascoltare la parola di Dio, a leggere la Bibbia o sentircela raccontare, abbiamo riconosciuto quel soffio lieve che cambia le cose dentro di noi. Le parole di Gesù ci sussurrano con delicatezza che nella morte ci può essere vita, che la potenza di Dio cambia le cose, che anche noi possiamo ricevere quel soffio che restituisce la vita anche se il nostro cuore non cambia il ritmo del suo battere. Come Lazzaro possiamo risollevarci dalla morte che avvizzisce le nostre speranze, tornando alla vita di sempre con più coraggio e serenità. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore, vivrà. Marta risponde Sì, Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. La fede di Marta è il suo sì alla vita nuova in Cristo, ora, prima che quella biologica finisca. il nostro sì alla vita nuova risuona nelle parole di Marta, nel dolore che prova per la morte del fratello e nella gioia dell'annunciare che Cristo è con lei, che Cristo è con noi. La consolazione di poter trasformare le nostre vite grazie all'annuncio della speranza di una vita nuova, trasformata anche nella piccolezza di ogni nostro nuovo giorno. è come una pioggia fresca che bagna il terreno arido, che pulisce l'aria dalla polvere che ci soffoca, che rende chiara la visione del futuro che vogliamo. Attingiamo a questo soffio fresco, a questa pioggia benefica, per colmare la nostra sete di speranza e consolazione, per ritemprarci e rinvigorirci nella ricerca di una vita degna, una vita nuova pur nella vita di ogni giorno. Sia per Marta che vive, sia per Maria che vive, sia per Lazzaro che è morto. Vivere con la vita che Gesù è venuto a donare è una cosa qualitativamente diversa dall'essere vivi nel corpo. La vita è mutata perché lo sguardo di Dio su di noi ci permette di vivere una vita nuova nel segno della speranza e della trasformazione della nostra condizione. La resurrezione dei giusti che avverrà alla fine dei tempi non è che il risultato di questa trasformazione sarà la conseguenza di questa nuova vita. Care sorelle e cari fratelli, le parole che Gesù utilizza indirizzando la sua preghiera al Padre affinché a Lazzaro sia data la vita nuova sono le stesse che gli rivolgiamo anche noi sapendo che ci ha già ascoltati ed esaudite. Padre ti ringrazio perché mi hai esaudito. Amen. Oh, yes, I know. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì.